Le anticipazioni delle puntate del Segreto che andranno in onda a primavera, rivelano che Donna Francisca oltre a temere Tristan e Lunga R, un impostore che le chiederà sempre più soldi per togliere di mezzo Gonzalo, dovrà guardarsi alle spalle da uno dei suoi più acerrimi namici, chi? Severo Santa Cruz, che stabilitose in una tenuta più moderna, metterà a punto una terribile vendetta nei confronti di chi l'aveva separato dalla sua sorellina Sol. Possiamo anticipare che nelle puntate spagnole i due fratelli oltre a ritrovarsi, si sposeranno con i loro rispettivi partner in una doppia cerimonia. Intanto Aurora, condannata a dieci anni di manicomio, sarà sottoposta da fulgencia a terribili trattamenti sanitari come l'elettroshock, tanto che la poverette perderà la capacità di intendere e di volere. Infine il matrimonio tra Bosco e Amalia non si rivelerà felice fin dall'inizio, tanto che la sposa si rifiuterà di farsi vedere nuda la prima notte di nozze, mentre Ines proseguirà la sua gravidanza in condizioni disumane. Le anticipazioni della puntata 971 rivelano che Maria accetterà la corte di Tristan in lunga R solo per acquisire delle informazioni sulla sparizione di Gonzalo, che come saprete è tenuto ostaggio di una banda di criminali sull'isola cubana. Infatti la giovane vedova si avvicinerà sempre di più a Leonardo, tanto da andare con lui a fare una passeggiata in campagna dove la riempirà di complimenti. Infine Maria lo seguirà in camera solo per impossessarsi del suo passaporto, se lui non la baciasse con passione. Gli ultimi spoiler rivelano che Maria porterà l'importante documento a Don Anselmo, che comincerà ad indagare sulla vera identità del giovane. Grazie a tutti.